Ecco a voi le GGS28CE e GGS28LCE Professional Bosch, le robuste smerigliatrici assiali per lavori di levigatura universali. La GGS28CE Professional convince per la struttura compatta il peso ridotto, mentre la GGS28LCE Professional, grazie a lungo collare, raggiunge anche luoghi stretti ad esempio l'interno dei tubi. La GGS28CE Professional è estremamente maneggevole e consente di lavorare senza sforzi, anche in punti difficili da raggiungere. Inoltre, entrambe le levigatrici sono dotate di potenti motori per un rapido avanzamento del lavoro. Il kickback stop rileva un blocco della mola e spegne l'utensile immediatamente. Lasciatevi convincere dalle GGS28CE e GGS28LCE Professional, le robuste smerigliatrici assiali per lavori di levigatura universali.